È aumentato il vento, ho dovuto togliere gli ombrelloni e poi ho sentito cadere qualcosa, rumori, e sono caduti i calcinacci. Ho visto delle macchine anche sotto, ai calcinacci. Via Terraglio è l'incrocio con strada del Mozzato, ancora ben visibili i danni causati dal fortunale di ieri sera, che ha provocato paura e disagi in molti punti della città. Qui erano parcheggiate delle auto, i segni dei danni sono ancora visibili a terra. Quante macchine danneggiate che lei abbia potuto vedere? Probabilmente un paio ne ho viste io. Erano proprio sotto, vicino alla banca, dove ci sono i calcinacci adesso. In Viale Luzzatti un ramo spezzato ha colpito il parabrezza di un'auto in corsa. In Viale della Repubblica, nel parcheggio sterrato della pizzeria da Pino, un grosso albero si è schiantato al suolo, fortunatamente evitando la strada. Un pesante rischio si è corso tra Vicolo Siora Andriana e Via Castello d'Amore, all'ex foro Boario, dove il vento ha sradicato un lampione dell'illuminazione pubblica finito di traverso la carreggiata. Solo per un caso di lì in quel momento non transitava nessuno. E allarme ha causato anche il pannello di marmo che si è staccato da un palazzo di piazza Piodecimo, frantumandosi sul marciapiede. Il timore lì per lì era che altri potessero cedere. La protezione civile in costante collegamento con i vigili del fuoco si è mossa con quattro squadre. Il sindaco Mario Conte si è recato nella sede operativa, poi intorno alle 21 la situazione è tornata sotto controllo. E oggi in diretta sulla nostra emittente ha potuto tracciare un bilancio tutto sommato lieve dei danni. Noi come città siamo stati sfiorati perché sono stati una quindicina gli interventi da parte della protezione civile a supporto dei vigili del fuoco, purtroppo sono sempre più frequenti questi fortunali davvero importanti e in alcuni casi anche devastanti perché purtroppo dalle grandinate dei giorni scorsi a questa tromba d'aria è evidente che qualcosa da un punto di vista climatico sta cambiando. Una riflessione va sicuramente aperta anche a livello regionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.